I neopatentati in autostrada e nelle strade extraurbane principali sono soggetti a limiti speciali. Ecco le ultime regole del codice stradale 2021 con le eventuali relative sanzioni per chi trasgredisce le limitazioni dei neopatentati. Da diversi anni il codice della strada impone limiti più rigorosi nei confronti dei conducenti che hanno la patente da poco, visto che li considera meno esperti e quindi meritevoli della massima tutela. Prima di tutto, è bene ricordare che il codice prescrive alcune limitazioni generiche per i neopatentati, come la potenza delle auto guidabili durante il primo anno di patente e i limiti di velocità più restrittivi nei primi tre anni. Per questo motivo il limite per i neopatentati in autostrada è diverso, così come lo sono le sanzioni previste. Un appunto, i neopatentati sono tutte quelle persone che hanno conseguito la patente da poco, e il CDS tramite l'articolo 117, che si occupa di limitazioni alla guida, non considera mai l'età dei conducenti. L'età anagrafica infatti viene considerata solo in ambito assicurativo, ad esempio nella scelta della formula di guida. Sanzioni e rischi per i neopatentati che superano i limiti Oggi il limite di velocità dei neopatentati in autostrada e nelle strade extraurbane principali segue il comma 2 del già citato art. 117 del CDS. Esso dispone che nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B i limiti siano, 100 km orari nelle autostrade, 90 km orari nelle strade extraurbane principali. Stiamo ovviamente parlando di limiti generici, salvo altre eccezioni, ma chi viola queste? Disposizioni rischia una multa da 165 a 660 euro con la sospensione della patente da 2 a 8 mesi, oltre alle sanzioni previste dal articolo 142 che valutano l'effettiva soglia di Km, H, superata. A tutto ciò si aggiunge la doppia decortazione dei punti della patente, meno 6 punti, superamento dei limiti di velocità tra 10 e 40. Km, H, meno 12 punti, tra 40 e 60 km orari meno 20 punti, oltre i 60 km orari un appunto. Ricordate che la regola per cui non sono sottraibili più di 15 punti nel caso di varie violazioni non si applica quando è prevista come sanzione accessoria la sospensione o la revoca della patente. Inoltre, dal 13 agosto 2010 i neopatentati che nei primi tre anni non commettono infrazioni stradali guadagnano automaticamente un punto di bonus per ogni anno, fino a un massimo di 3.